Manca l'acuto finale tra Fidelis e Nardò che si dividono la posta in palio in un match in cui le due squadre si dividono anche un tempo a testa. L'uomo copertina della squadra di Danucci, cioè Caputo, va a sinistra in un 4-2-3-1 piuttosto inedito con potenza spostato più avanti, Lezzi e Zappacosta. La diga centrale, assenza importante per Panarelli invece con Cristalli e Paparusso out e Lesordio dal primo minuto in biancazzurro per Scaringella in avanti. Alle sue spalle il tandem prinari Cerone. Ci mette un po' la gara ad offrire emozioni con Bolognese che ci prova dal limite altissimo, ma il Nardò prende campo e al tredicesimo arriva l'occasione costruita da potenza per Gallo che al volo mette la sfera sul fondo. Riparte bene la Fidelis che costruisce invece una buona opportunità sull'asse Scaringella-Prinari con l'ex del match a calciare potente ma troppo alto da buona posizione. Tanto fraseggio a centrocampo ma nulla costruito verso le due porte sino a 5 dal termine. Cerone per Scaringella che sfiora il gol del vantaggio con un tiro alto da buona posizione. Il Nardò non si disunisce e in pieno recupero ha due palle buone per passare sempre con Lezzi. Prima il tiro da lontano del centrocampista finisce a lato, poi lo stesso numero 26 si inserisce alla perfezione su assist di Cancelli. Calcia, botta, sicura, ma Anatrella è super nel salvare in due tempi la sua porta. Non c'è più tempo e il pericolo scampato suona come una scossa per i biancazzurri che nella ripresa tornano in campo con una verve diversa. Subito Massari in campo per Danucci al posto di Gallo contro Mossa Panarelli con avvantaggiate Clemente per Carullo e Frisenda. Nuove ali per i biancazzurri. Subito allora l'esterno andriese di sinistra e protagonista con una bella discesa sul fondo e l'assist per Cerone che ha due buone palle per chiuderla in rete. Manzo un minuto dopo calcia da lontano ma la sfere deviata in angolo sempre avvantaggiato. Protagonista a sinistra con un servizio al bacio per Russo. Entrato al posto di Prinari che di testa mette il pallone sul fondo di un soffio. In campo anche Monaco per Cerone con una Fidelis inedita dalla mezz'ora schierata con il 3-5-2 e Scaringella subito la palla buona per il gol del vantaggio. Venturini protesta per una presunta trattenuta in aria ma l'azione prosegue sino all'ottima imbucata del numero 9 biancazzurro che calcia però debolmente a pochi passi da mille. Bravo a fermare tutto. Il Nardò soffre le sortite Fidelis. Monaco da lontano palla sul fondo sempre avvantaggiato in pieno recupero crossa teso verso il cuore dell'aria ma nessuno arriva all'appuntamento con la deviazione vincente. E la parola a fine sul match che non si sblocca. Sesto risultato utile consecutivo per la squadra di Panarelli che dovrà ancora recuperare una gara e mantiene inviolata la porta per il secondo match consecutivo. Domenica prossima al Degli Ulivi sarà di scena all'Alta Mura in un nuovo importante derby del Girone H. Il Nardò capitalizza invece al meglio il successo di domenica scorsa e ora attende il Francavilla tra le mura amiche.